E' un'unica cosa per le quali sei pagato. Sono allenarti e giocare al pallone. Stai sempre sui giornali per le tue continue cazzate! Domenica, statene pure a casa. Perché non giochi. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Un'esame a settimana. Se non passa, non gioca. Lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità. Mi pare una cazzata, eh? Dai. Non mi tocca mai. Se devi imparare a gestirla, questa rabbia, tu non pensi abbastanza. Mi pare che manco dei pezzi troppo. E' la prima volta che mi ripiace questo lavoro. Ma non gliene frega niente a nessuno di questo ragazzo. le cazzate che hai paura a qui? Direi mani su. Seppure! Seppure! Grazie a tutti.